ventottesima domenica del tempo ordinario è il racconto questa domenica di un miracolo la guarigione di ben dieci lebrosi di per sé il testo avrebbe già attraverso questa guarigione qualcosa di molto sostanziale da dirci ma c'è qualcosa che va oltre oltre un miracolo c'è qualcosa di più importante di un miracolo c'è chi pensa che ricevere un miracolo o vivere qualcosa di soprannaturale sia la vetta della fede questo non è esatto paolo per esempio nell'inno alla carità al capitolo tredicesimo della prima lettera ai corinzi dice che se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità non sarei nulla sarebbe a dire che si può avere una fede che opera a meraviglie ma non è nulla cioè non basta un miracolo c'è qualcosa di più grande del miracolo ecco infatti di per sé il racconto di questa domenica è caratterizzato da un miracolo che riguarda appunto dieci lebrosi ed è uno slalom fra le regole che riguardano le condizioni dei lebrosi gesù sta arrivando in un villaggio e prima di entrare dieci poveri lebrosi gli chiedono di avere pietà di loro tenendosi a distanza perché loro non potevano entrare nel villaggio non potevano avvicinare nessuno potevano solo tenersi compagnia fra di loro come prevedevano le leggi per la loro malattia come sono registrate nel libro del levitico allora gesù a distanza da loro un'indicazione di per sé incongruente cioè dice loro andate a presentarvi ai sacerdoti un lebroso poteva presentarsi al sacerdote solamente quando era guarito e a guarigione conclamata ricevere così dal sacerdote l'autorizzazione per rientrare nel proprio villaggio ma gesù dice loro di andare quando sono ancora lebrosi infatti fidandosi di questa sorprendente indicazione loro partano e mentre essi andavano furono purificati vanno nell'atto di questa obbedienza paradossale a cristo cioè andare a conclamare la loro guarigione quando ancora sono malati ma guariscono perché la fiducia riposta in questo maestro ha procurato il miracolo per quanto riguarda diciamo un contenuto importante questo ci potrebbe bastare c'è abbastanza ma il vangelo di luca ci regala un dettaglio che poi diventa il centro di tutto il racconto succede che uno di loro vedendosi guarito torna indietro lo dando dio a gran voce si prostra davanti a gesù ai suoi piedi per ringraziarlo e costui era un samaritano quando gesù vede questo samaritano felice e grato nota che gli altri non sono con lui e che l'unico che è tornato a rendere gloria a dio è proprio uno straniero in sé c'è qualcosa di riconoscibile l'estraneo è colui che ringrazia che chiede permesso di servizi delle cose che è riconoscente per ogni gesto gentile il casalingo da tutto per scontato prende senza chiedere è sbattato verso i servizi che riceve i turisti vedono le cose belle gli autoctoni non le notano più da molto ma la frase più importante gesù la dice alla fine alzati e va la tua fede ti ha salvato va notato bene i guariti sono dieci come gesù ribadisce non sono stati purificati dieci ma uno solo è salvato dieci guariti uno solo salvato il miracolo ha avuto il suo effetto solamente su una persona non è bastato per portare alla fede vera autentica gli altri nove si può vivere una guaragione ricevere un miracolo e non cambiare di una virgola è possibile guarire e non salvarsi è abbastanza inquietante la salvezza del samaritano non era guarire dalla lebra ma entrare in un rapporto di gratitudine con il signore gesù riconoscere dio presente in gesù infatti lui loda dio e lui riconosce un'opera di dio il samaritano non è andato dal sacerdote a ricevere l'agoniato permesso come fanno gli altri torna indietro prima c'è da glorificare dio ha capito cosa conta veramente non è solo guarito ha incontrato dio questo è di più ecco noi possiamo assolutamente sottolineare di questo vangelo quanto è importante tutte le grazie che noi possiamo ricevere non sono fine a se stesse ma sono una via per arrivare a dio se una grazia ricevuta non ci porta al rapporto con dio non ci serve nemmeno per andare in paradiso cioè sarà un nulla sarà una cosa spettacolare tutto qua nel libro dell'apocalisse le cose spettacolari le fa pure il demonio per cui non è tanto da vedere noi crediamo che ciò che convertirà il mondo saranno i miracoli saranno le cose straordinarie eccezionali no ciò che converte il mondo è la fede è l'amore e quando si fa qualcosa di più che spostare le montagne qualcosa che di più è avere l'amore è l'amore quello che mostra dio in questo mondo è la fede in dio è l'appoggiarsi lui il vivere da figli di dio che mostra questo mondo la salvezza non le cose strabilianti eccezionali noi possiamo cavare questo che è molto importante tante volte una malattia può essere anche la strada di una conversione un'esperienza di dolore che noi tanto speriamo che ci venga tolta che veniamo sottratti a questa esperienza però non serve a molto guarire se non arriviamo alla salvezza altro è la salute altro la salvezza non è vero che la salute la prima cosa la prima cosa è la salvezza e la pienezza e vivere una vita autentica e arrivare al fondo dell'esistenza questo è molto più importante che non stare sempre in buona salute o risolvere tutti i propri problemi o non avere dolore alcuno ci possono essere persone che hanno una salute perfetta e un amore ridicolo e ci possono essere persone malate che hanno un amore meraviglioso che sanno amare che sanno perdonare questo conta di più